Il 2020 non è per noi solamente l'occasione per festeggiare i 100 anni della Banca Popolare Sant'Angelo, ma vuole essere un punto di partenza del nostro futuro, perché siamo qui da tempo, siamo qui da 100 anni, autonomi e indipendenti, e vogliamo continuare a esserlo, per essere chiari, per altri 100 anni. Perché la Banca Popolare Sant'Angelo è una banca popolare e siciliana, e secondo me questi due aggettivi connotano e identificano perfettamente la banca. Cioè una banca che vuole continuare ad essere a servizio e a sostegno dell'economia regionale, sostenendo quella che è la struttura portante dell'economia regionale. Quindi famiglie, piccole e medie imprese, artigiani, professionisti, e con particolare riferimento poi un settore che a noi interessa molto è quello dell'agroalimentare, delle start-up, delle energie rinnovabili. E' proprio in questo momento in cui le grandi banche stanno rivolgendo la loro attenzione verso mercati più ampi, noi invece vogliamo continuare a soddisfare, come abbiamo fatto da 100 anni, le esigenze dei siciliani, per farli sentire proprio in casa, per farli trovare una casa dove poter soddisfare le proprie esigenze. E vogliamo proprio accompagnarli in quel percorso di trasformazione, di innovazione tecnologica che credo sia oggi fondamentale per le imprese siciliane. Per questo noi intendiamo concentrare ancora di più i nostri crediti qui in Sicilia. Cioè a differenza di altri istituti, noi qui raccogliamo i risparmi e qui vogliamo continuare a impiegarli e non al nord, dove sarebbe anche più semplice. Cosa stiamo facendo allora? Perché è bene parlare di quello che abbiamo fatto, ma secondo me dobbiamo parlare del futuro. Cosa stiamo facendo? Stiamo innovando tutti i canali digitali, stiamo sviluppando tutti i canali digitali, perché vogliamo servire anche quelle comunità siciliane che operano all'estero. E non è necessario avere degli sportelli, basta raggiungerli con i canali digitali. Stiamo collaborando, stiamo sviluppando delle sinergie con l'Associazione delle Popolari nell'ambito della società Luzzati, in una logica di condivisione dei servizi che tutte le banche popolari dobbiamo svolgere. E quindi di sharing service. Mi riferisco alla gestione dei crediti deteriorati, mi riferisco allo sviluppo sulle fintech, sui canali tecnologici che richiedono impegni, investimenti notevoli, ma che fa condivisi con altre banche che sono simili a noi, possiamo farlo molto più serenamente. Stiamo colloquiando con i providers assicurativi per offrire un ampio ventaglio di prodotti nell'ambito della previdenza assicurativa, nell'ambito della previdenza integrativa, nel microcredito, nei finanziamenti alle famiglie, tutto questo proprio per poter dare tutti questi servizi ai siciliani. Insomma, stiamo realizzando con impegno e compassione una banca ordinata, innovativa, trasparente, che possa essere appunto la casa dei siciliani. Credo sia questo il ruolo delle popolari. Il ruolo delle popolari che una popolare deve avere oggi più che mai è sostenere proprio lo sviluppo delle imprese del territorio per creare quel volano positivo di ulteriore occupazione, sostegno e benessere. Ed è quello che faremo per i prossimi cento anni, perché la Sicilia è in una posizione geografica, è un ponte col Mediterraneo e quindi sia per le sue capacità, per il suo innato ingegno e per la sua posizione merita un posto di maggiore rilievo. Ed è quello che noi vogliamo fare. Ma credo che siano iniziative che rispondano a una visione. Sono tante iniziative dentro una visione, che è la visione di una banca, che a differenza di come spesso accade nel sistema bancario, non vuole utilizzare o sfruttare lo sviluppo, ma vuole promuovere il sviluppo. Vuole promuovere l'innovazione, vuole promuovere la nascita di nuove aziende, vuole investire sui giovani e sul futuro, vuole prestare attenzione al mondo della cultura e dell'arte, dando alla banca il ruolo che dovrebbero avere tutte le banche, non soltanto di beneficiari del cambiamento, ma di agenti del cambiamento. Mi sembra che sia un modo straordinario per spegnere le prime cento candeline di questa banca.